Anna Tatangelo, la compagna di Gigi D'Alessio, è una delle donne più seguite sui social La bella Anna non può passare inosservata con la sua innata sensualità.La bellissima compagna di Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo ha voluto mostrare ai fan il suo bellissimo corpo ancora una volta con un vestito assai speciale, tutto maculato e molto sexy La bellissima Anna si è vestita da Leopardo.Anna Immaculato seduce i fan.Anche con una felpa e un paio di scarpette Anna riuscirebbe ad attirare i fan nella rete della sua seduzione La bella cantante che ormai è tornata con Gigi D'Alessio da un po' di mesi, ha postato sui social una foto davvero molto provocato che non poteva scatenare tra i fan i commenti più assurdi e sensuali Un corpo come il suo è decisamente irresistibile. Non solo fa maschi, ma anche donne che sottolineano come il paragone con una come lei non regge per nulla Anna si mantiene in forma e per fortuna, da madre natura, è stata baciata da capo a piedi Le gambe sensualissime, e la scollatura profondo.Chiaramente non poteva passare inosservata l'ultima foto Anna si è mostrata ai fan in un conturbante vestito maculato dalla scollatura molto profonda Un incontro tra il sexy e il provocante che ha lasciato i fan a bocca aperta.Non contenta, la Tatangelo ha fatto anche delle storie in cui ha focalizzato l'attenzione sulla sue bellissime gambe impreziosite da un paio di sensualissime calze nere Insomma, un mix esplosivo che ha mandato in delirio i fan persi tra le sue curve molto generose Bella, brava, sensuale e intelligente, cosa poteva volere di più Gigi? È stato sicuramente molto fortunato Ecco lo scatto che ha mandato in tilt la rete